Non te ne cambiano più il carro, sta attento. Vabbè, aiuto, vado a dare mucciaccia. Gradino. Gradino. Michele a caso sarebbe sparato. Michele è tosto. Mi fa troppo rire, perché tu li fai. Ma se li fai, vai. Li fai troppo rire perché sai dove vuoi? È cambiato. È cambiato? Sì. 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 Chi è? Sì. No, no, no. Sono vieni. Ma insomma mi sembri essere un po' dalla uscianca, va bene, attento, roppa, 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 è tutto morto. Noi sui canali faccio già una buona lezione. Questo canale però che è utile, quando si è passato qua si passava bene. Ehi, ma che si prende? Tutto così? No poi peggiora. Eh, sono neanche le due, i due sono i cunetti. Si è già i cunetti. Si è già i cunetti. E' giù. E' giù. E' giù. E' giù. E' giù. E' giù. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.